Il tempo giusto per una commissione, torno subito Prendo le sigarette e torno subito Pausa caffè, ma torno subito Questa volta ho fregato, ma torno subito Ma all'Outlet Village di Città Sant'Angelo Come stanno insieme Con il diritto ad esserci? Cominciamo da questi ultimi, davvero L'uso indiscriminato dei parcheggi Delle persone con disabilità Perché penso che chi non è colpito Da disabilità motoria Non sa quanto sia importante avere parcheggi liberi Il figlio con la sindrome di Down Nel tempo l'associazione è diventata sempre più importante Per questi genitori E di cui abbiamo col comune di Pescara Istituito un centro di urno Convenzionato col comune E dove noi abbiamo 25 ragazzi Da un paio di settimane stiamo ospitando due famiglie che vengono dall'Ucraina E ovviamente siamo pronti a colmare ogni necessità e ogni esigenza di qualunque genere Perché giustamente loro sono arrivati con quattro cose Da nove anni io già guidavo la macchina Un'auto che corre a 300 km all'ora anche di più Come riesce a collegarsi con chi fugge da un paese come l'Ucraina Oppure con chi non ha neanche lo spazio per poter parcheggiare il proprio carrozzino? Si collega che sicuramente le persone che possono permettersi questo tipo di macchine Sono persone più fortunate rispetto ad altri E benvengano le iniziative benefiche E benvengano le persone che mettono a disposizione un qualcosa di loro per aiutare il prossimo Il progetto di questo fine settimana all'outlet di città Sant'Angelo Insomma ha un motore se possibile più forte che una Ferrari L'uso corretto dei posti per i disabili, quindi non indiscriminato E ci saranno in questi giorni delle attività che cercheranno di sensibilizzare i nostri clienti Ma tutti quelli che poi potranno godere delle auto in questi tre giorni Il resto è Ferrari Un uomo tantissimi anni fa, che si chiamava Enzo Ferrari Disse, se prendete un foglio di carta e un colore E chiedete a un bambino di disegnare una macchina Di che colore la farà? Chi lo sa? Rossa Ecco perché è nata Passione Rossa Passione Rossa è ad oggi il più grande Ferrari Club del mondo Ha 23 anni di storia, ha 800 raduni alle spalle Un World Guinness Record come club E 4 record mondiali come pilota, come sottoscritto Ciao Ciao Ciao